Stalloni, buon lunedì a tutti! Iniziamo la settimana presentandomi la Porsche GT3 che si vanta di essere black Sotto le luci naturali per mostrarvi come il Vanta assorbe la luce eliminando ogni forma e linea dell'auto Rendendola praticamente ragazzi un punto nero ed è cattivissima E poi guardate come si mette in risalto tutti i dettagli in contrasto in nero lucido e in giallo lucido Il Vanta ha un effetto velluto che è davvero ragazzi pazzesco anche al tatto Comunque mi raccomando restate connessi e ci vediamo più tardi con le altre creature